Questa è una sfilata di costumi da bagno associato non so a cos'altro, cioè una improvvisata legata a un'insonnia notturna assolutamente ingestibile, quindi mi invento un defile di swimmingwear, costumi da bagno, a very lebronic style, swimmingwear in legon, swimmingwear in legon, ok? Ora sfilata da costumi di bagno, vediamo, iniziamo con questo di costumi, così un po' tibetan style, in costumi un po' stile cibetano, location è il bagno di casa mia, questo è swimmingwear qua, per costumi di bagno di... anche gestione delle luci veramente molto... così improvvisato, questo vi trattavo a con il mio grande buzzo di stomaco, questo comunque è un costume con disegni di draghi, molto tibetan style, aspetta che salgo di basca, per farvi vedere il costume molto meglio. ho una collezione sterminata di costumi da bagno, adesso un attimo faccio changing con questa strategia, mentre cambio costume scelgo un costume un po' più sexy. questo è ovviamente il bagno della mia casa, questo è ovviamente il bagno della mia setcia anche qui, in cui la mia casa, questo è il bagno della mia casa. no... no... ecco... ecco... in questo modo non si vede molto ben un costume. questo stile di cameriere adesso cambio cambio metto invece un costume che è un po più simile a pantaloncino sportivo questo è un po simile a pantaloncino sportivo forse questa ha la luce migliore va a mostrare questi pantaloncini ora adesso passo ad altro questo posso salire su ora muoio questi vedono meglio di questi swingwear alla fine cado e mi uccido ma che interessante muovire durante un video ce ne sono di pazzi moti durante i video ce ne sono diversi da lì facciamo riprese finalizzate a mostrare questo sensato pantaloncino streaming video for swimmingwear questo swimmingwear questo swimmingwear un defilé di costumi di bagno un defilé no questo ancora andiamo così a luce troppo ora posso metterlo in questo modo uno specchio qui è un paio doppio forse questa è la migliore luce migliore situazione per mostrare questi costumi di bagno ecco adesso esco faccio indosso invece uno altro questo questo forse mi sta un po' piccolo uno poco piccolo questi costumi qua veramente molto piccolo devo entrare in vasca di bagno questo credo non mi stia molto bene ok è molto piccolo questo costumi di bagno è molto piccolo molto difficile contare per fare le riprese non che siano completamente compatibili adesso mi sposto in altro costume scelgo vediamo questo blu anche more interesting con tessuto moto tecnico esco faccio change questo questo è più interessante si rischia qui morte aspetta spengo video fino a quando non rimetto allora è molto difficile mantenere questo mio livello di improvisation è absoluto neppure la luce riesco a tenere in mano la spina per fare il video questo è molto 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 interesting for me questa mancanza totale di professionalità assoluta mancanza di professionalità che mi porta a tenere in mano la stessa spina del video è propriamente improponibile questo tipo di situazione a livello allora a questo punto potrei improvvisare una vasca da bagno che potrebbe morire a causa delle pratiche di illuminazione e illuminotecnica no perchè l'acqua potrebbe andare questo sarebbe molto assolutamente molto ehm punk molto molto trash anche interesting for me poi devo prendere più così in modo che prendo anche i miei piedi non è semplice apparire completamente una figura intera ecco finalmente dopo un'ora adesso provo questo va a essere un video a fissare con la scoccia in maniera che non si muova questo va a essere un video a fissare con la scoccia in maniera che non si muove un video elettricista vediamo anche un'altra strategia non so come se uno si trovasse a progettare qualcosa e ottiene esattamente un po' come la vita no? dove quello che vuoi in realtà è nascosto sotto le tue intenzioni io pensavo di voler fare un video su costumi da bagno ma in realtà l'obiettivo piuttosto era la realizzazione di questa mise en scène dove io vado a interagire con una luce e allora a questo punto continuo con una piccola maschera per nascondermi dietro i miei deliri dietro i miei deliri così assolutamente inadeguati alla realizzazione del video che desideravo allora ora torno a prendere un costumo diverso faccio il cambio scelgo 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 vediamo se c'è qualcosa di interesting blu l'ho messo scelgo questo bianco un po' old style molto vintage anche per il taglio del campo molto ancien style eccomi questo bianco anni 50 60 è interessante ma sto se questo interessante costume indovinato per che cosa per apparire un perfetto silenetto potete indossarlo avete capito dove lasciando ovviamente in bella evidenza le strutture sottostanti molto interessante eh questo cyrus mermaid eh questa diciamo ricopertura mermedica della vostra identità maschile possiamo dire questo scemenso questo pura scemenso comunque questo mermaid for 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 your passero eh un mermaid interesting eh questo for mermaid potete metterlo as a mermaid naturalmente molto interesting con un'apertura una chiusura a strappo for il vostro piecelo va bene questo anche interessante come you know e vediamo adesso altri invece costumi eh possibili che abbiano una loro attendibilità così è messa sempre inclinazione inadeguata video su come fare riprese questo è è un meta video un video dove diventa fondamentale come svolgere le varie riprese come già vedete le varie riprese scegliamo allora dopo questo eh gonna un po' astuccio un po' pisello e eh costume pintoressi ecco vado a indossarlo un po' 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 Grazie. 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 Un po' di brasiliano style, un po' di brasiliano style, che più importante è questo di brasiliano style, avere un po' un look un po' di brasiliana con costume anche anessi di brasiliano style. Un po' di brasiliano style, che è molto interessante questo look, così, rio, un po' di brasiliano style, un po' di brasiliano style, questo potete anche fare su TikTok. Dovrei fare passaggio su TikTok, ma trovo una forma, avrei molto successo io su TikTok, ma lo trovo un assolutamente incorrect modo di stare a rapporto con video, perché mi piace una lentezza, una distruzione, una destrutturazione di quelli che sono i luoghi comuni dei video, Ad esempio, tutti questi video sono semi-wear, io vado in questo modo, ovviamente, di costruendoci, producendo una specie di critique al bodybuild, alla fisicità, come dire, imposta da quello che è il terribile capitale. Questi uomini tutti omologati con questa fisicità, con questa fisicità, promuovente, muscolari, e invece io faccio questo defilè di costumi brasiliani ispirati alle cuffie di gomma della signore. molto in voga negli anni negli anni 60 e 70 davvero molto in voga dobbiamo spingere questa luce per vedere come appare così un po' more Brazilian style more Brazilian style ci vorrebbe forse anche un occhiale adeguato a questo look così Brazilian con queste floreal situation allora molto interesting questo look Brazilian con costume floreale in esso è un maggio a carnevale non tanto venesiano quanto un carnevale brasiliano a virtù del fatto che il carnevale brasiliano ovviamente essendo un carnevale australe si svolge durante la stagione calda allora io ho voluto mettere insieme questi fiori naturalmente molto Brazilian style anche una conciutura un po' brasiliana un incrocio fra brasilia poi eraton e minetto davoli è sempre una mia icona noi non ci muoviamo queste icone di un costumetto che sia un po' così pure evocativo di quella dimensione a lei allora andiamo avanti con questi costumi mettiamo andiamo avanti con questa variegatezza di costumi proviamo di attivare questa luce che fa una sorta di focage dietro forse più interessante senza questo ninetto un po' ninetto diavoli proviamo a alzarmi da qui ora distruggo tutto mi uccidio ecco questa su qui è troppo illuminato per essere colorato riscendo nuovamente questo mi trovo more interesting con questi con ciobatti ovviamente super adesso è andata completamente via la luce la rivetiamo dobbiamo rimettere adesso cambiamo nuovamente costume proviamo a mettere un costume anche questo more interesting vado fuori ad usarlo mi lascio comunque questi riccioli questa parrucca così di nec davoliana Grazie. Ecco, questo è il costume di verdi, anche questo un po', con queste strutture verdi, losanghe, molto brasiliano, molto 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 brasiliano e accorrebbe a questo punto anche degli occhiali. Che brasilianizzassero ulteriormente, rendessero molto brasiliano, ancora più brasiliano, così, ci sono su due anche un po' speculare, che più brasiliano rendessero, forse giro, così. E' un po' di lunghezza, dove stanno, che stanno a fare, o mi sto a provare il costume, a fare il costume dell'estate. mi sa che questi costumi qua ne stanno un poco cioè non è che mi stiano proprio il top questi costumi qua non mi stanno proprio il top non mi stanno il top ora faccio nuovamente un cambio cioè due luce più forti devo fare il cambio di costume troppo dietro metto in avanti così devo chiudere vuol dire spiego più interessante così molto più interessante in questo modo ora faccio un'altra prova provo a fare il cambio in questo modo e questa volta vado a indossare un costume molto interessante può mettersi anche non sfilando sì vedete questo costume è molto interessante che è diciamo un laccio il quale voi facete andare non mi risulta semplice senza occhiali senza occhiali la vecchiaia imporrebbe un uso costante e quindi mi casco nei capelli Dio mio prima la luce poi i capelli tutto buon fare come dicevano le mie nonna tutto buon fare non mi riesce a indossare qui c'è un meccanismo che va oh eccolo finally finally questo costume così che può essere portato indossato aperto oppure chiuso mi rimetto i capelli monneziani o brasiliani riprendo nuovamente un po' di tablet di video per così manifestare la mia come dire assoluta essere di un quartiere no? tipo una stagia sporchi brutti cattivi questo non sta sporchi brutti cattivi già avevo usato questa parrucca che però quando ogni volta che la trovo io mi rinnamoro quindi più che prova costume per l'estate un trippone che prova costume per l'estate ecco questo costume quindi così slacciabile apribile un costume slacciabile apribile e ora metto un ultimo sui tanni del violetto il costume che ho trovato in realtà questo interessante questa cosa che ho trovato un costume questo sui tanni del violetto anche abbastanza interessante questo pure sui tanni del violetto spengo anche questa luce forse si vede meglio questo interessante costume sui tanni vediamo se riesco ad illuminarlo più sensatamente questo costume sui tanni da un violetto che è violento violetto e questo vorrei concluderlo e il del filet naturalmente perché ho un video già molto abbastanza privo di sens molto poco sensato su questo video eh veramente poco su questi tanni violetto molto su questi tanni così interessi interessi su questi tanni violetti costume sono costume molto interessanti questi che ho fatto vedere questo lavoro su diciamo adeguamento del corpo mamma mia questi capelli non possono cadere così di continuamente ecco forza così di continuo di continuo di continuo molto importante questo summer swimming wear, summer swimming wear, questi costumi per l'estate, per summer swimming wear, i summer swimming wear, questi importanti costumi, summer swimming wear, questi summer swimming wear, questi summer swimming wear, provati per l'estate, summer swimming wear, e così questi costumi provati per l'estate con loro, rimettetemi questi capelli, di così un po' taro, io trovo incredibili, queste sorte di questi capelli assolutamente brasiliani di favela, così sono senza capelli, sono senza capelli, nessuna favela possibile, anche interessanti colori di costume, rimetto il capello favelante, si può fare un video su una parrucca o sull'andare via dei costumi di luce, queste sono cose veramente proprio a lungo, oltre misura, sono oltretutto le decente, misura in un'ampicazione, buona suscribia e Kim thirdi di nuovo la sulla. summer for the next summer see me where for the next summer see me where for the next summer sui me where for the next summer sui me where for the next summer anche l'altro luce così sui me where for the next summer sui me where for the next summer così un po' pescatore rodiniano, un pensatore rodiniano, un pensatore rodiniano però assolutamente proletario, un pescatore rodiniano molto proletario sulla sua vasca di bagno, un pensatore rodiniano proletario ecco, un pensatore rodiniano proletario e quindi vado a produrmi in questo video molto così, io vado a fare il bagno dalla vasca rischiando con questa elettricità di ovviamente c'è l'idea di possibilità di morire con questa elettricity, c'è la possibilità di morire con questa elettricity, c'è la possibilità di morire con questa elettricity, l'elettricity live, io direi possiamo anche andare a chiudere questo lungo, tremendo video sulla questo lungo video tremendo sui costumi di bagno, lo potrei anche chiudere qui, se non vi rimettessi però visibili i piedi, perché sapete che dentro queste non sono abbastanza alti le dimensioni questo video per contenere i piedi, per contenere tutto quanto, quindi bisogna lavorare, noi facciamo così, un silenetto di calendario, un silenetto un po' sui generis, un silenetto sui generis, con un fisico però più da saggio confuciano, ecco sono, sono un fisico da saggio confuciano in realtà questo è un fisico del saggio de sé confucian per l'estate, fatevi un fisico da saggio confuciano per l'estate, così che potrete indossare tutti i costumi che vorrete, se quest'estate io me la metto questa parrucca assolutamente, me la metto, ci vado in giro, qualsiasi stamani la userò come strumento di lavoro, at school, alla scuola, veramente interesting, more, more interesting, more, more, interesting non so come approcciare ancora questo lavoro la vasca di bagno, forse anche a morire, la vasca di bagno, fare la doccia, fare la doccia la vasca di bagno, con questo look brasiliano, intonare una canzone, grazie a la vita, grazie a la vita grazie a la video, con cui mi riprendo tanto, quasi quasi mi faccio un video, che per me è uno shampoo schiuma, non è altro che schiuma, quella che vedi schiuma, delirio, delirio, quasi quasi grazie allo video, in cui mi rifletto tanto, grazie allo video, allo video, che bendo, che vedo questi video, questi video sono finalizzati, arrivedermi, non li vede nessuno, grazie al salo video per cui mi amo tanto, grazie al salo video, quasi quasi mi faccio un video video, video, piano piano, non lo vedi, ti trattiene, così vianto, così lieve video, oh video, oh video, piano piano, lieve lieve, come pixel, come neve video, oh video, piano piano, lieve lieve, grazie al salo video, per cui mi amo tanto, grazie al salo video video, a rumore e al suono, la mia frustrazione, qui si tiene tanto, grazie al salo video, che io amo tanto, quasi quasi mi faccio un video video, come schiuma, di deficiente, qui si vede, qui si sente video, grazie allo video, quasi quasi deficiente, qui si vede, qui si sente video, quasi quasi mi faccio una vasca, quasi quasi mi faccio una vasca, video, oh video, grazie al salo video, che mi ha dato tanto, grazie al salo video, video, quasi quasi mi faccio una vasca, quasi quasi mi faccio una vasca, Ah, quasi quasi mi faccio una vasca, quasi quasi mi faccio una vasca, un video in vasca, un video in tasca, questo video che faccio in cui mi posso vedere di me mi fa nuovamente innamorare. Non lo vedo che io stesso, a me stesso diretto, sono l'unico interessato a questo video registrato, nessun altro ha voglia di vederlo, è noioso oltre misura, a vederlo io mi amo, agli altri fa paura, è questa l'indecenza, ti rende a te stesso amabile e agli altri di nessuna rilevanza. Che presa di video, che video ripresa, quasi quasi mi faccio una video ripresa, video, quasi quasi mi faccio una video ripresa, video, dentro il tubo, dentro il video, quasi quasi, grazie allo video, Grazie allo tubo, per cui mi dimostro che non conto un tubo, è bello, non conti un youtube, non conti un youtube, video, oh video, quasi quasi mi faccio una vasca video, video, quasi quasi. Mi faccio una vasca video, video, oh video, quasi quasi mi faccio una vasca video, oh video, quasi quasi. Mi faccio una vasca video, oh video shampoo, quasi quasi mi trovo uno shampoo video, che è inutilità, che sciocchezza, che mi fa però leggerezza, è per voi una pesantezza, un'insensatezza, Non lo vedo altro che io, questo video mio, sono un video maniaco quando, se farò mai il prossimo vaccino, ma vorrei fare lettore di carte, fuggire dalla scuola, non so che fare, se farmelo restare, Se me lo farò andrò vestito, con due palle scese fino ai piedi, invidibili, oppure maiali senza ali, qui la libertà non vola, video, oh video, piano piano, piano piano, lieve lieve, Non sei un tubo, non sei un tubo, non vali un tubo, niente, video, non vali un tubo niente, non vali un tubo niente, sei qui, dichiarante te stesso, assolutamente perdente, deficiente video, assolutamente te stesso, dichiarato perdente, deficiente video, 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 oh video, dichiarato deficiente, rilassato, assai perdente video, qui la parrucca si vede di più che falsa, video, mi ero quasi identificato, ci avevo quasi creduto, Ci avevo quasi creduto, ci avevo quasi creduto, video, oh video, piano piano, lieve lieve, che Narciso, che Narciso, che Leopoldo, che Narciso, video, video, e mi levo la parrucca, resto nudo, resto brucca, E poi faccio la performance di quella famosa donna, un costume così, un costume così, un costume così, un costume così, io mi sento scostumato, io mi sento ricostumato, Quasi quasi faccio una performance che possa sembrare femminista, e mi metto qualcosa in vista, video, 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 penso solo ad essere un video, video, penso solo ad essere un video, penso solo ad avere un video, Sono solo un video, sono solo un video, make up, 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 grazie allo video grazie allo video che mas video mas mas video video mas mas video mas video video mas mas video video geni 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 video Video, video geni, video, video geni, video, video geni, video, video geni, video geni, video, video geni, 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 video Video, 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 video video geni video